La piantagione di circa un ettaro contava quasi 2500 esemplari di varia altezza nelle adiacenze della strada statale 514. Si estendeva ridosso del fiume di Rillo utilizzato per l'irrigazione delle piante ed era stata ricavata dal disboscamento di parte dell'area nel comune di Licodie Ubea, riuscendo ad essere completamente occultata agli occhi delle forze dell'ordine. Ma le fiamme gialle della compagnia di Caltagirone, grazie alle informazioni ricevute dalla sezione aerea del corpo di Palermo che da oltre un mese monitorava le olversi della cultura illegale attraverso ripetuti solvori in elicottero, sono riuscite a sequestrare l'intera coltivazione di marijuana insieme a tutti i macchinari e gli attrezzi utilizzati. Rinvenute all'interno della stessa area anche zone già adibite a dissiccatoi e depositi che al momento della raccolta sarebbero stati utilizzati per il successivo stoccaggio e trasporto della sostanza psicotropa che una volta messa in commercio avrebbe fruttato oltre 2 milioni di euro. Il proprietario del terreno montano, ex imprenditore agricolo, è stato denunciato alla magistratura calaltina per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti aggravata dall'ingente quantità.